Grazie, Presidente. Quando si giura sulla Costituzione come Ministro della Repubblica, si decide di essere in tutto e per tutto uomo delle istituzioni. In queste ultime tre settimane, fuori da qui si è sviluppato un dibattito gravemente viziato da allusioni e illazioni, ma per rispetto delle istituzioni, piuttosto che alimentare polemiche, ho condiviso fin dall'inizio l'esigenza del Parlamento di un confronto che si è già sviluppato al Senato con quattro interrogazioni a risposta immediata e alla Camera, con due interrogazioni a risposta immediata, un'audizione in Commissione Giustizia e un informativo giugente in Aula. Ripercorrerò adesso i punti delle mozioni presentate, le cui ragioni sono praticamente opposte tra di loro e replicherò alle stesse, portando avanti molto semplicemente la forza e l'evidenza dei fatti, tutti qui documentati.